La città ospiterà un appuntamento importante, Napoli città del sole, si è scelta fra le tante città italiane, tantissime iniziative fra cui un concerto la sera in cui ci sarà anche un omaggio per festeggiare i 50 anni di attività dei pubblici. Sì, innanzitutto siamo contenti che sia stata scelta Napoli e la conferma come Napoli è ritornata a essere ai vertici sull'attrattività per quanto riguarda eventi culturali e sportivi, quindi siamo orgogliosi e stiamo organizzando, coorganizzando questa iniziativa importantissima a Piazza Dante. Tra l'altro ricordare i 50 anni di questo grande complesso musicale della storia del nostro paese sarebbe bello poter avere la sorpresa di vederli tra noi, non sarà facile ma noi li invitiamo perché Napoli vuole essere sempre di più la città dei giovani e la città della cultura.